Anche con quest'ora adesso, beh capita, può capitare, ma sicuramente qualcuno dirà domani città non sicura, degrado, ma 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 ci vuole che coraggio a discorso, è anche imbarazzante per chi osa dire che Paola è una città insicura, che c'è degrado, non so chi sia, non mi interessa chi lo dica, però è veramente imbarazzante, uno deve avere un po' di vergogna, anche se magari non è neanche della città di Paola, non sa niente, però Paola è una città bella, sicura, tranquilla, sta riavviandosi, io sono soddisfatto e orgoglioso di questa città. Gli episodi che capitano? Capitano, non ho capito, c'è sempre il barolo, o no? Se no cosa serve? Sai quante persone perdono il lavoro se fosse tutto perfetto? Tutta la polizia, tutti i carabinieri, tutta quest'ora, voi non sapete più, non è possibile tutto va bene, tranquilli, se no perdiamo il lavoro se c'è il problema di occupazione, mancarebbe anche questo.